abbiamo pubblicato per i quaderni del bardo edizioni la casa della poesia di nono giudice uno dei massimi esponenti della poesia portoghese nella collana altri incontri a cura di laura garavaglia e con la traduzione e la nota prefattiva che consiglio caldamente di emilio coco qual è il valore di questa raccolta diversi essenzialmente il fatto che giudice cerca l'esserci della poesia un esserci della poesia che si può realizzare soltanto attraverso la creazione degli strumenti che fanno attenzione al vero significato della parola al reale significato della parola e solo in questo modo per giudice è possibile fornire quegli strumenti operativi agli abitatori della casa della poesia che sono come lo stesso giudice sostiene degli operatori che lavorano di import export di anafore di metafore di iterazioni e litterazioni insomma la casa della poesia trova la sua funzione andando oltre indicibile proprio partendo dalle parole più semplici e quindi diventando totalmente assolutamente universale